Scusate, ma anche vostra moglie aspetta un filco? Papà, 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 sempre e solo papà Ma io starò con papà E di quell'altro lì, neanche parlarne, vero Doyle? Lui non è mio padre, è solo il fidanzato di mia madre Ma quello lì... Io sono Dutch Dool Sì, Dutch E' un osso molto duro Ma quando ti depositerò a casa di tua madre, sarai addomesticato E se un giorno scoprissi che c'è qualcuno meglio di papà Ti sono preso quest'impegno, idiota, perché amo tua madre E che per giunta piace anche alla mamma Dutch è molto meglio di papà In prima tv per i filmissimi Domani 20.40, canale 5 Coppa del nonno Nessuno come te E che per i filmissimi E adesso, yogurt Parmalat Così buono, così cremoso, naturale Ricco di fermenti vivi che fanno tanto bene E costa solo 1920 lire Marchino lo preferisce alla banana Laura alla fragola Paolo al mattino sceglie i cereali E per me, Parmalat Light Eh sì, io ci tengo alla linea Parmalat Light Ha solo 47 calorie E per i più piccoli Nuovo Plasmonio per crescere meglio La polvere è come il tempo Non si ferma mai Nuovo pronto antipolvere Con i suoi agenti antistatici Cattura la polvere E ne impedisce a lungo il ritorno Così, nuovo pronto antipolvere Ferma la polvere E continua il pulito Non potevamo farlo più buono Non potevamo farlo più grande Non potevamo farlo più fresco Allora, lo abbiamo fatto più conveniente Sì, oggi Santal è ancora più conveniente In tutti i gusti Non potevamo aumentare la frutta Allora, abbiamo diminuito il prezzo Santal, prezzo speciale Fino al 31 luglio Che sudata Ma che diodorante usi adesso? Licia persona Si sente che non si sente Licia persona antiodorante Non copre gli odori Li elimina E la stessa efficacia è anche in spray È licia persona È crema È spray C'è un regalo Sforna tutto Sforna tutto? O fa solo toast? Pizzette? Pizzette come queste? È per tutta la famiglia Non ti chieni più E col timer si spegne da solo E poi lo pulisco io Si pulisce da solo Sforna tutto delle unghie Anche con piastra griglia tutto Questa è la storiella del grissino innamorato Oh, lo vedete questo tonno? È Rio Mare Il più amato dalle famiglie italiane Sapete perché? Perché è compatto, rosa, a trancio intero Ed ha un carattere così buono Che va d'accordo con la pasta Con le insalate Con tutto E poi Rio Mare è un alimento sano e completo Oh, mi sa che tocca a me Tonno Rio Mare Così tenero che si taglia con un grissino Primo appuntamento con la moda italiana Su Canale 5 apre la stagione dell'eleganza Dello stile, della praticità e del colore Mildi in Italia Nell'ambito della rassegna Portofino Porto d'Arte Gerry Scotti presenta Moda Mare Portofino In passerella i più noti stilisti italiani Sfileranno con le nuove collezioni Per vestire l'estate In collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Moda Mare Portofino Sabato 20 e 40 Canale 5